Nel 2010 l'Istituto e Museo di Storia della Scienza ha assunto la nuova denominazione Museo Galileo. Le sue raccolte di strumentaria scientifica consistono di oltre 5.000 pezzi, circa 1.000 dei quali in esposizione permanente nelle 18 sale attualmente aperte al pubblico. L'allestimento si sviluppa su due piani di Palazzo Castellani. Il percorso espositivo è articolato secondo criteri cronologici e tematici. Il primo piano è dedicato agli strumenti delle collezioni medicee dal XV al XVIII secolo, esposti in nove sale, nelle quali si osservano, tra l'altro, raffinati strumenti matematici, gli strumenti originali di Galileo, tra i quali gli unici due cannocchiali pervenutici tra quelli costruiti personalmente dallo scienziato pisano, gli strumenti dell'Accademia del Cimento e la straordinaria collezione di globi terrestri e celesti dominata dalla monumentale sfera armillare di Antonio Santucci. Nelle nove sale del piano superiore si dispiegano le testimonianze scientifiche dell'età lorenese, dal XVIII al XIX secolo. Esse illustrano il cospicuo contributo toscano e italiano allo sviluppo dell'elettricità, dell'elettromagnetismo e della chimica, la straordinaria serie delle cere ostetriche, il banco di chimica del Granduca Pietro Leopoldo e infine le bellissime e didatticamente efficaci macchine per la dimostrazione dei principi fisici fondamentali, costruite dall'Officina del Museo di Fisica e Storia Naturale.